Buonasera e ben ritrovati dai campionati CAI, Supercoppa di Calcio a 5, si affrontano Dogana Winter Stars, i campioni in carica, il Santimento Next Gen, Dogana Winter Stars in maglia bianco blu schiera, Dailyu, Del Grosso, Ghioka Silger, Castelli, l'allenatore giocatore Kerimi, Ferrari e Ghioka Vincent. Risponde il Santimento Next Gen in maglia blu con Bergamaschi, Borella, Baffi Samuele, Baffi Leonardo, Di Giorgio, Lambertini, Zucchini, Malacarne, Gazzola, allenatore Mister Bucalo, dirige l'incontro signor De Pascalis. In vantaggio ci va il Santimento Next Gen con Gazzola che batte velocemente la rimessa laterale per Borella, si gira con il destro, c'è una deviazione che inganna il portiere ed è 1-0. Il pareggio però della Dogana arriva subito dopo con Ferrari che qui salta, il diretto marcatore va in porta con il destro, preciso preciso all'angostra, ed è 1-1. Funziona ancora l'asse Gazzola-Borella su calcio d'angolo, Borella va in porta con il mancino, tiro sul primo palo ed è 2-1. Il pareggio poi arriva con Vincent Ghioka che qui riceve, scarta un avversario, va con il destro, botta potentissima, non ci può arrivare Bergamaschi ed è 2-2. Dogana poi si porta in avanti su calcio piazzato con Silger Ghioka che riceve, va con il destro ed è 3-2, sorpasso per la Dogana. Da questa palla poi persa sanguinosa dal Santimento nasce un'azione per la Dogana con Vincent Ghioka che mette in mezzo per Ferrari e Lambertini nel tentativo di anticiparlo insacca nella propria porta ed è 4-2. Poi Ghioka però è letteralmente ingiocabile, salta un avversario, poi con il cucchiaio, tocco morbidissimo, grandissimo gol per quello che vale il 5-2. La next gen reagisce poi con Samuele Baffi, bella azione sulla destra, supera anche il portiere, accorcia meno due, siamo 5-3. L'ultima occasione del primo tempo è questa punizione di Silger Ghioka che va a lato, è fuori e su questo tiro termina un bel primo tempo sul risultato di 5-3. Nella ripresa parte fortissimo il Santimento next gen qui con Malacarne che riceve e si gira subito con il mancino, grand gol, quello che vale il meno uno. Poco dopo ancora Malacarne avrebbe l'opportunità di pareggiare i conti qui su questo pallone recuperato, ottima la finta, il tiro con il destro, Delio è straordinario e salva i suoi. E allora da calcio piazzato la dogana torna avanti di due gol con Capitano del Grosso che va in porta con il destro, gran tiro il suo. E siamo 6-4. Torna in campo poi Bomber Borella con il mancino nell'angolino, di nuovo meno uno. Poi su quest'azione caparbia da parte di Ferrari, il pallone in mezzo, tiro cross per Kerimi per il più facile tap in ed è 7-5. Su questo pallone poi perso in fase di impostazione, Ghiocca va in porta, il portiere si oppone, la palla rimane lì, Kerimi non ha difficoltà, doppietta ed è 8-5. Accorcia le distanze poi il Santimento next gen con Samuele Baffi che riceve, va in porta con il mancino, gran gol il suo. E la rete che vale l'8-6. Ultime battute poi finali sempre per la dogana, ci vuole un gran Bergamaschi per dire di no, ancora a Ghiocca. Ma poco importa perché l'arbitro fischia la fine, la dogana Winterstar dopo una bellissima finale, biss al successo e conquista la Supercoppa.